Allora, siamo arrivati in un punto dove c'è una cascata davanti a noi e sempre lungo il sentiero che ci porta, che si chiama passeggiata sospesa e adesso proseguiamo, abbiamo due scelte, o andiamo dritti o facciamo delle scale e adesso tiriamo la monetina Allora, vi volevo far vedere che siamo esattamente sotto a una montagna ci siamo fermati un attimo e questa davanti a noi è la montagna che praticamente parte dalla strada da dove noi in questo momento ci siamo un attimino seduti su un muretto e a breve prendiamo praticamente il percorso del sole che ci dovrebbe portare fino al Capolinea Grazie Grazie Grazie